No, però proviamo a pensare quante donne vengono violentate ogni giorno e forse è la stessa cosa poi, probabilmente la media sarà quella poi si calcola che la maggior parte dei casi non si denunciano No, sai che la maggior parte dei casi delle donne che sono violentate non sono denunciate Certo, è quello il problema Però anche quello è un fenomeno che sta aumentando parecchio soprattutto tra i giovanissimi, no? E poi la violenza di branco della ripresa tramite il cellulare che riprendono i filmati Anche questo è un fenomeno abbastanza inquietante Quelle sono le, come dire, i dati negativi della tecnologia che avanza Sì, e poi anche il fatto che vedo che i giovanissimi hanno meno rispetto della scuola come istituzione meno rispetto degli insegnanti Ma sono anche gli insegnanti che non fanno sì che ci sia questo rispetto comunque perché come noi, che siamo una generazione più aperta anche loro comunque si sono un po' adeguati a questa generazione e a questa apertura e quindi di conseguenza tra la tecnologia che ha rovinato completamente tutto e loro che si sono un po' più aperti, adattati e noi che siamo avanzati sicuramente non... Beh, però nelle scuole stanno succedendo parecchi fattaci Sì, no, ma sicuramente Questo è un fenomeno abbastanza... Non sono solo giovani, secondo me No, 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 è un po' tutto Però ecco, in particolare mi colpisce negli ultimi tempi tutta una serie di eventi che sono avuti nelle scuole Sì Comunque diciamo che forse i bambini... Io ho visto la domenica in addirittura un filmato in cui una maestra si faceva tastare il sedere da un alunno Ma quando mai? A tempi miei non si potrebbe succedere una cosa del genere E questa non reagiva tranquillamente, questo andava giù con sta mano pesante E questa non reagiva, non aveva la mia immaginazione Ma ragazzi, dico, ma qui non si è accorta, ma è possibile? Ragazzi, ma quindi c'è un qualcosa che nella scuola oggi come oggi non funziona Ci sono dei malesseri perché certe cose sono al di là del bene e del male Non pensi che adesso però c'è stata la possibilità di filmarlo con un telefonino? Magari queste cose succederebbero Ma quando mai? A scuola, io non so, non mi sento vecchio Però ti posso garantire che quando andavo a scuola io queste cose erano pura fantascienza Non è che è successo in una scuola, è stato un caso E però, a parte che non è un solo caso Addirittura quella professoressa che si è portati 3-4 ragazzi nell'orario di educazione fisica Non sarei i bambini forse sono anche più svegli Io ho lavorato questo mese e ho avuto la cosa di lavorare accanto al mio ex fidanzato Dentro una scuola e quindi di vivere i ragazzi con le insegnanti Devo dire che questi insegnanti sono completamente senza carattere Non riescono a dare un'educazione e una rigidità agli studenti Che comunque prima non succedeva C'era una grande rigidità e non c'era proprio l'occasione di poter rispondere O fare qualsiasi cosa Certo Comunque io penso che mi sembra che io mi debba avere Sì, adesso ci saluta Si vanno davanti i bacini La sera si esibisce Vogliamo dire dove si esibisce? No, c'era io in piazza Aldomoro, zona noventana Fonte Nuova Io sono lì, sono ospite Chi mi sta ascoltando e chi si trova da quelle parti è il benvenuto e mi farebbe piacere Grazie a Radio Roma, grazie a voi, grazie per Francesco Alpanella per il corso Grazie Grazie Antonello, grazie alla regia Vi saluto Grazie soprattutto a te da noi E comunque per salutare Emi Bergamo ci ascoltiamo un altro brano Che appunto opera di Claudio Simonetti Naturalmente colonna sonora dell'omonimo film di Dario Argento Oggi abbiamo parlato la musica di Dario Argento con il film di Campanella Bene, salutiamo Emi Bergamo di Dario Argento Ciao, grazie